Siamo fidati fin dall'inizio e quindi eravamo sicuri della selezione della scelta. Grazie mille. L'altro applauso grosso lo vorrei al centro sportivo Densol, ai titolari, al signor Franco De Felice e la signora Antonietta che sono qui sul palco, che conoscete sicuramente tutti, bene che ci sono anche anche ballerini che vengono fuori da Pescara questa sera e volevo presentare i titolari ma non solo, volevo dare una forma di ringraziamento a voi maestri di ballo e ho il piacere di farli premiare dai proprietari, dal signor Franco e la signora Antonietta. Allora volevo iniziare a ringraziare prima di tutti prima di tutto voi ballerini e iniziamo a ringraziare, a venire qui sul palco dal maestro Cosimo Guerra, se può venire qui sul palco. Noi ringraziamo per la presenza e tutto quello che fai per la sincro dance. Non a caso il maestro Cosimo Guerra da parte mia è stato nominato socio onorario della sincro dance, quindi per noi è una parte importante di questa struttura e ti ringraziamo di essere qui questa sera con i tuoi allievi e assieme a noi, alla nostra famiglia sincro dance Abruzzo. Andiamo avanti col maestro Vincenzo Masci. Facciamo un applauso più forte al maestro Vincenzo. Io vado a chiamare anche altri così non perdiamo troppo tempo. La maestra Claudia Parviero. C'è la maestra. Ah ecco bene. Grazie maestro per il tuo impegno e per tutto quello sempre che fai, per l'esibizione che fate. Grazie di cuore. Il maestro Fabrizio Di Pietro. Grazie maestra. La maestra Daniela Giardino. La maestra Pina Pavoncelli è presente? No, ecco. Bene, comunque io ce l'avevo in elenco, poi qualcuno prenderà l'attestato. La maestra Dea ma la testa. Grazie Daniela. Grazie a te, grazie. Grazie. La maestra Rosa Pinnisi. Grazie. Grazie per tutto quel, tutto l'impegno. Questa è per Pina, grazie maestra. La maestra Ilaria Fontana. La maestra Daniela De Marco. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. La maestra Patrizia Vittorini. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te, Adriano. Grazie a te. Grazie a te. Aspetta maestra, non è che ci siamo dimenticati, ma lo volevo fare dopo, ma lo facciamo adesso. Vorremmo ringraziare il maestro Antonio Lizza, quindi se è possibile venire qui sul palco, ci facciamo una foto, ricordo tutti e quattro. Il maestro Antonio, io personalmente lo devo ringraziare perché anni fa, forse dieci anni fa, ci ha dato una grossa mano a creare delle coreografie per poi andare in esibizione il gruppo, il team della Singro Dance. Grazie a me piaceva molto la tecnica e tutte le coreografie che hai fatto. Spero che poi un domani possa ritornare questa sintonia. Piano piano speriamo di riavvicinare tutti e di ritrovare un attimo l'armonia per il ballo di gruppo, non diciamo di più. E quindi volevo ringraziarti per tutto l'impegno che ci hai dato, gratuitamente, tra parentesi. Grazie a voi. La maestra Miriam Pansone. La maestra Silvana Faricelli. La maestra Sara Caldarelli. Quindi non diciamo niente, gli applausi hanno già detto tutto, grazie a te maestra. La maestra Alessia Ghiotto. La maestra Anna Rita Scurti. La maestra Teresa Marroncini. Il maestra Marroncini. Il maestro Francesco Campanile. La maestra Marroncini. La maestra Marroncini. La maestra Marroncini. La maestra Marroncini. Marroncini. La maestra Marroncini. La maestra Marroncini. La maestra Marroncini. grazie a te maestra, grazie la maestra Rosanna Zaccagnini c'è la maestra Rosanna, sì l'ho visto prima, eccola, grazie la maestra Concetta Picci grazie maestra io credo di aver chiamato tutti i maestri sono arrivato un po' in ritardo ma hanno dato un elenco e credo che siano tutti questi i maestri se ci dovesse essere qualcuno che non ho chiamato venite qui direttamente sul palco e vi ringrazio comunque di essere qui bene, non per ultimo io volevo ringraziare prima l'ho visto qui vicino a me e non so adesso, credo che è ancora qui all'interno della struttura il maestro Gregory Corazzini è presente? se può venire ci facciamo una foto vieni maestro e poi appena dopo questa foto tutti i maestri se è possibile qui sotto il palco e facciamo una foto ricordo per tutti allora maestro Gregory io mi sono permesso di darti come ad altri il certificato di alta qualità tecnica e didattica perché veramente lo merita il dovete sapere credo che alcuni di voi già lo sanno dovete sapere che il maestro Gregory sta sempre dietro le quinte ma non solo per la propria scuola ma per tutti per aiutare tutti con lui ho riscoperto la naturalità delle competizioni sportive quindi io lo ringrazio di essere qui presente e ringrazio di partecipare alle nostre attività sportive spero che poi in seguito potremmo continuare più le collaborazioni sportive no no ci mettiamo qui benissimo grazie al maestro Gregory facciamo un applauso a tutti i maestri presenti e anche a voi ballerini come dice il nostro amico Antonio fatevi un applauso benissimo allora tutti i maestri qui sotto al palco qui sotto al palco